il obbio aspetta metto la maschera acceso vai 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 sull'istrail allora devi essere proprio in medesima fine la filosofia di casserfranco e ma deve dalla discesa loro vedano discesa non è meglio meglio lo ferma solo se rimane incastrato c'è schernifiato anzi vedo un gacchio è un po' scavato è un po' scavato vai va buono va buono pensati Castelfranchese ti sei pensato Castelfranchese? si no... non ci sei che si noti Grazie a tutti